Rieccoci qui da Palazzo Mezzanotte, ho qui accanto a me Maurizio Iperte ad Idilo Jack Italia che ci consente quindi di parlare un po' di più di uno di quei settori che prima vi annunciavano saranno protagonisti di questa serata ovvero nell'ambito della mobilità e delle fonti Mobility Awards. Dottore Iperte innanzitutto raccontiamo un po' ai nostri telespettatori di cosa si occupa lo Jack. Lo Jack in Italia da oltre 12 anni serve quasi 300.000 clienti e fornisce soluzioni innovative legate alla mobilità. Tra i clienti più importanti abbiamo case automobilistiche come Toyota e BMW, società di noleggio a lungo termine come ALD Automotive, Alphabet, Volkswagen Leasing e compagnie di assicurazioni come Covea e Verti. Perfetto, è vero che per voi innovazione e sostenibilità sono due parole chiave che vi vedono tra l'altro protagonisti di un progetto importante con Regione Lombardia, è così? Assolutamente sì, abbiamo aderito con entusiasmo a questo progetto sperimentale di Regione Lombardia che è partito il primo di ottobre e il progetto si chiama MOVE-IN, monitoraggio dei veicoli inquinanti. Si tratta del primo progetto di questo tipo a livello europeo e sostanzialmente i dati che vengono trasmessi dalle vetture dopo l'installazione di sensori telematici permettono di controllare l'emissione di inquinamento da parte di questi veicoli e la Regione Lombardia, insieme con i propri partner, anche con Logec, ha sviluppato una piattaforma dedicata e quindi le auto più inquinante, benzina Euro 0, diesel Euro 0, 1, 2, 3 potranno avere una deroga chilometrica, potranno circolare, saranno monitorate e appunto con la tecnologia che anche Logec fornisce si verificherà in funzione dell'utilizzo dello stile di guida, dei chilometri e delle aree di percorrenza si verificherà l'effettivo inquinamento ed è un progetto veramente innovativo e quindi come Logec siamo molto contenti di contribuire a rendere visibile, comprensibile il livello di inquinamento delle città e quindi insomma un servizio per la collettività. Servizio per la collettività che insomma sembra essere sempre più attenta tutto ciò che riguarda il mondo dell'ecologia e in generale della sostenibilità per cui benvengano progetti di questo tipo e magari la rinviteremo per raccontarci un po' gli esiti di questi progetti così da tenerli anche noi monitorati ma dal punto di vista mediatico e di informazione. Io ringrazio nuovamente Lottor Iperti per essere stato qui con me non mi resta che lasciarti la linea Alexandra. Grazie a tutti.